Rita Borsellino, una nonna forte, coraggiosa, una grande siciliana, che appartiene ad una famiglia di Borsellino che hanno rappresentato per 25 anni l'antimafia più credibile. Ha fatto anche politica e ha portato in Europa un vento nuovo che soffiava dalla Sicilia. Rita Borsellino è la prima a raccogliere il testimone dopo le stregge del 1992 di Antonino Capponnetto, il consigliere istruttore che aveva lasciato la Sicilia e che aveva cominciato ad entrare nelle scuole. Rita Borsellino ha un rapporto molto speciale con i ragazzi, ogni 19 luglio intorno a lei c'erano migliaia e migliaia di ragazzi. Una grande perdita per la Sicilia. Viene a mancare proprio in un momento in cui la credibilità dei movimenti antimafia è al minimo storico e lei rappresentava invece nel movimento un punto di riferimento molto importante.